cari ascoltatori saluto voi tutti calorosamente nel prezioso nome di gesù spero che la presentazione della parola di dio sia ben compresa da tutti noi viviamo ora e non possiamo fermarci a ciò che dio ha fatto in passato ma se riconosciamo la sua opera nel passato allora comprenderemo cosa egli sta facendo oggi i profeti gli apostoli e tutti i veri servitori di dio hanno avuto la rivelazione della volontà e della parola di dio per il loro tempo poiché erano sotto la diretta influenza dello spirito santo loro avevano accesso alla tenda della rivelazione e vedevano la gloria di dio paolo scrive ai credenti or a ciascuna è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune primo corinzi capitolo 12 versetto 7 in relazione al suo ministero in primo corinzi capitolo 14 versetto 6 egli disse che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento e gli pone la sua predicazione sul fondamento profetico delle sacre scritture e riconosce nel suo tempo l'adempimento delle cose promesse per bocca dei profeti ma prima dovette uscire dalla cerchia degli scribbi e dei farisei per sperimentare la rivelazione di gesù cristo e il riconoscimento della volontà di dio cristo lo incontrò sulla strada per damasco ed egli divenne uno strumento eletto di dio nel nuovo testamento la via verso la rivelazione di dio nel luogo santissimo è aperta a tutti nell'antico testamento il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo una volta all'anno con il sangue dell'animale sacrificato per fare l'espiazione davanti a dio cristo il nostro sommo sacerdote una volta per tutte è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue la porta è aperta la via è libera e possiamo seguirla ogni rivelazione divina può essere compresa correttamente solo nel divino luogo santissimo la maggior parte dei credenti si trova nel cortile esterno senza sapere ciò che dio sta preparando per loro nel luogo santo o quale rivelazione divina ha da dire loro nel luogo santissimo proprio come paolo rivolse alla chiesa parole di insegnamento e rivelazione profetica così è anche in questo tempo l'intera predicazione del vangelo deve essere scevra dalle interpretazioni del popolo e è posta esclusivamente sulla base profetica questo è l'unico modo per giudicare adeguatamente il piano di salvezza non è il punto la visione di una direzione di fede ma solamente la parola di dio è decisiva per tutto ciò in cui crediamo e insegniamo soprattutto in questo tempo tutto deve essere verificato con la parola di dio perché sta scritto che molti devieranno dalla fede per attenersi a delle dottrine perniciose il nemico è riuscito a interpretare le verità fondamentali delle sacre scritture rendendole credibili alle persone nel cortile esterno cose che sono sconosciute nella tenda della rivelazione di dio la bibbia insegna che esiste un solo dio il quale tutto in tutti ma bisogna entrare nel luogo santissimo per sperimentare questa rivelazione di dio per mezzo dello spirito santo allora comprenderemo che lo stesso dio si è rivelato in cielo come padre sulla terra come figlio e dimora in noi per mezzo dello spirito santo nessun profeta o apostolo ha mai parlato a più persone nella data una simile conversazione può essere ascoltata soltanto nel cortile esterno vale a dire tra coloro che non sono mai stati nella tenda della rivelazione di dio tutti i servitori e i figli di dio che ricevono la rivelazione dello spirito riconosceranno dio nel modo giusto gesù cristo il figlio di dio e dio manifestato in carne ecco come insegna la sacra scrittura egli è l'emmanuele dio con noi chi vuole comprendere correttamente la rivelazione di dio non può iniziare con il nuovo testamento nella sua ricerca ma deve iniziare con la prima frase della bibbia la maggior parte delle persone separa il nuovo testamento dall'antico testamento e quindi non ha un fondamento su cui edificare il signore gesù e gli apostoli predicavano esclusivamente dall'antico testamento e dimostravano che l'opera di dio nel nuovo testamento era il compimento delle parole dei profeti dell'antico testamento tutta la moderna teologia di oggi è caduta vittima dell'errore e della falsa conoscenza di dio perché la teologia non ha la chiave per la conoscenza della parola profetica se vogliamo sapere chi è cristo il nostro salvatore allora dobbiamo leggere le profezie dell'antico testamento se vogliamo sapere come egli si è rivelato allora dobbiamo leggere i vangeli il profeta isaia ha profetizzato del messia nel capitolo 9 versetto 5 poiché un fanciullo ci è nato un figliolo ci è stato dato e l'imperio riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile dio potente padre eterno principe della pace questa non è un'interpretazione teologica ma la rivelazione divina di gesù cristo in cielo dio si è rivelato come padre perciò noi preghiamo padre nostro che sei nei cieli la rivelazione di dio nella carne è in gesù cristo il figlio di dio solamente chi crede in lui riceve la vita eterna perciò sta scritto chi crede nel figlio di dio ha la vita eterna la rivelazione di dio come uomo è stata necessaria per dare a noi quali esseri umani la possibilità di diventare partecipi della vita eterna ancora oggi ci sono discepoli di gesù che dicono come filippo in quel tempo signore mostraci il padre e ci basta la risposta di gesù era valida per lui e per noi tutti da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto filippo che ha visto me ha visto il padre come mai tu dici mostraci il padre non credi tu che io sono nel padre e che il padre è in me il più grande di tutti i misteri non può essere compreso né spiegato con dei termini umani solo quando cristo si rivelerà a noi come signore della gloria conosceremo la sua divinità dietro la sua umanità paolo scrive e senza alcun dubbio grande è il mistero della pietà dio è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito prima epistola timotio capitolo 3 versetto 16 gli ebrei non potrebbero mai credere diversamente che in un solo dio questo unico dio è creatore e sostenitore egli è redentore e re egli si è manifestato in diverse maniere ma rimane il solo e medesimo cari ascoltatori cari fratelli e sorelle avete ricevuto la rivelazione dello spirito siete entrati nella tenda della rivelazione di dio avete visto l'ingresso nel luogo santissimo sotto il sangue della riconciliazione il signore può veramente rivelarsi a voi come colui che è che era e che sarà non contentatevi più di una conoscenza mentale di dio che è la stessa delle interpretazioni razionali ma entrate nella tenda della rivelazione e riconoscete che il signore è dio allora potete esclamare come tommaso mio signore e mio dio gesù cristo il nostro redentore era dio e uomo secondo lo spirito era dio secondo il corpo era uomo come uomo come uomo è morto per noi come signore sulla vita e sulla morte e risorto dopo aver sconfitto tutte le forze del nemico trionfando su di loro possa ciascuno per mezzo dello spirito santo glorificare gesù cristo preghiamo padre celeste ti ringrazio per la tua preziosa e santa parola ti ringrazio per lo spirito di verità per la parola di verità e per tutte le persone che sono pronte a lasciarsi guidare dallo spirito santo rivelati a ciascuno di noi e guidaci tutti insieme nella tenda della rivelazione in modo che possiamo ascoltare vedere soltanto gesù benedici tutti coloro che adesso hanno ascoltato la tua parola ti prego nel nome di gesù amin di offerto il nostro esstando e rivelazione in modo che stavre avvicino in modo che sarebbe che la parola di aver giustano era sana di farola di dar non la part di entrare perché stavre in modo che stavre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.